Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo andiamoci dentro col video. Oggi ragazzi voglio parlarvi di un caso che mi ha colpita particolarmente. Siamo a Charlotte, nella Carolina del Nord. È il 10 marzo del 1994 e la primavera si preannuncia funesta, quando una 18enne afroamericana viene ritrovata senza vita in casa sua con un asciugamano attorno al collo. Vive in un complesso residenziale a Charlotte chiamato Lake Apartments. Sulla scena del crimine è già presente il detective James Stansberry, che chiama a sua volta un suo collega, Gary McFadden, mettendolo al corrente della situazione. Quando il detective Gary McFadden entra nella casa della vittima, ossia Brandy Anderson, e vede lo sguardo del suo collega James Stansberry, capisce immediatamente che quel caso non sarebbe stato affatto facile. Facciamo un piccolo passo indietro. La vittima per l'appunto si chiama Brandy e il suo compagno Lamar, tornando a casa da lavoro verso mezzanotte, trova la porta d'entrata aperta. Il giovane si allarma, entra in casa, inizia a chiamare la sua fidanzata. Arriva in salotto e si rende conto che è tutto in disordine. Ci sono cose rovesciate, buttate a terra, come se ci sia stata una collutazione. Brandy, ahimè, purtroppo viene ritrovata ben presto dal suo fidanzato. È in camera, sdraiata sul letto, a pancia in su, con una legatura al collo. Brandy è stata strangolata con due asciugamani. E, in quella casa, non è l'unica ad essere presente. Il ragazzo di Brandy, Lamar, girandosi, vede suo figlio con un paio di pantaloncini legati attorno al collo. Sta effettivamente piangendo disperato, ma grazie a Dio è ancora in vita. È così che Lamar libera il collo di suo figlio di appena dieci mesi e chiama il 911. Inizialmente tenta di rianimare Brandy con un massaggio cardiaco, ma non c'è nulla da fare. Brandy è già senza vita. A prima vista questa ha l'aria di essere una rapina. Siamo nei primi anni 90 e in quel periodo c'è una vera e propria epidemia di Coca-Cola fumata. Questa sostanza porta i consumatori a rubare e rivendere qualsiasi cosa. Poi però il detective Stasberry dice a Gary McFadden Sai, ho già visto una ragazza nera strangolata con un asciugamano. È successo davvero pochissimo tempo fa, forse 48 ore fa. La donna in effetti è stata trovata strangolata nella sua casa che dista solo 13 chilometri da quella di Brandy. La donna si chiama Betty Baucom. La ragazza è stata strangolata seguendo le tecniche del garrotamento. E ben presto, proprio per questi due casi, i detective si allarmano. Lo ammettono entrambi. Di omicidi se ne vedono tanti. Ma casi di strangolamento al massimo se ne verificano uno o due all'anno. In quel caso sono già a quota due dopo pochi giorni. Così i detective allarmati dalla situazione tornano ad esaminare vecchi casi. Ed uno è proprio di Gary McFadden. È il caso di Shona Hawke. Torniamo indietro di circa un anno. È il 19 febbraio del 1993. La madre di Shona D. lavora come receptionist in uno studio legale in centro a Charlotte. Mentre Shona di mattina frequenta il college per poter diventare un assistente legale. Mentre di sera o di pomeriggio lavora da Taco Bell per potersi pagare gli studi. Così Shona saluta sua madre, sale in macchina e si dirige all'università. D. a questo punto anche lei esce di casa, va a lavorare e rientra in casa attorno alle 5 e un quarto. Entra nel vialetto di casa sua e nota che la macchina di Shona non è lì. Però è strano perché Shona quel giorno avrebbe dovuto staccare da lavoro per le 4 del pomeriggio. Vuol dire che per quell'ora avrebbe dovuto già essere a casa. D. però non si preoccupa più di tanto. Shona è un fidanzato. Poi appena entra in casa vede che non c'è nulla fuori posto. Poi però di colpo squilla il telefono. D. risponde e dall'altro capo della cornetta si palesa proprio il fidanzato di Shona, Darren. Il ragazzo le chiede D. ciao, ascolta ma per caso tu hai visto Shona? La donna è stupita e risponde ma no, vuoi dirmi che non è con te? Darren risponde no D. in realtà non la vedo da ieri. D. quindi risponde a Darren ascolta quindi tu oggi non l'hai né vista né sentita. Vieni subito qui Darren, dobbiamo parlare. Appena Darren arriva a casa della donna D. lo mette immediatamente alle strette. D. dice che se sa qualcosa farà meglio ad aprire la bocca e a parlare. Darren a questo punto risponde a D. ho un brutto presentimento, D. un brutto 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 presentimento. D. per quanto sia addolorata concorda con Darren. In tutto ciò c'è qualcosa di strano, qualcosa che non le torna. A questo punto Darren per sicurezza perlustra la casa. Mentre D. cerca di capire dove possa essere andata Shona, sua figlia. Il dirigente sarà da pranzo, non riesce a stare ferma, cammina avanti e indietro senza sosta. Non riesce a credere che né lei né Darren riescano a trovare Shona. Ma c'è dell'altro perché Shona non li ha neanche chiamati e questo è un comportamento strano. Non è da lei non avvisare in caso si presenti qualche imprevisto. Insomma, c'è davvero qualcosa che non va. Darren nel frattempo è al piano superiore. Cammina lungo il corridoio fino ad entrare in bagno. Entra in bagno quindi, apre la tendina della doccia e trova il corpo di Shona nella vasca da bagno immersa in acqua fredda. Darren quindi corre da D. le appoggia le mani sulle spalle e gli dice La prego, la prego, chiami il 911. Shona è nella vasca da bagno ed è fredda, l'acqua è freddissima. D. quindi presa dal panico chiama il 911. E alle 19.48 i soccorritori arrivano sul posto. Cercano di rianimare Shona ma non ci riescono al momento, quindi decidono di portare Shona e D. in ospedale. Intanto i detective arrivano sulla scena del crimine. Il caso non è ancora stato assegnato al detective Gary McFadden. Ma lui, quella notte, è lì, proprio su quella scena del crimine. Ogni scena del crimine ha la sua storia e quindi ogni detective della omicidi deve guardarsi attorno, analizzare e studiare ogni particolare e lasciare che sia la stessa scena del crimine a raccontargli la sua storia. Quella notte, comunque, come già vi ho detto, il detective Gary McFadden è presente e nota una cosa. Non c'è assolutamente disordine, non c'è alcun segno di collutazione. La vasca da bagno in cui è stata ritrovata Shona in effetti è piena d'acqua. Però l'acqua è abbastanza limpida e non sporca di sangue. Quella non è una tipica scena del crimine, bensì è una scena molto, molto ripulita. I detective esaminano porte e finestre per cercare silenti scasso. Cercano anche delle impronte in giro per casa, ma non trovano nulla. La vittima quindi ha per caso fatto entrare qualcuno? Perché ha fatto entrare l'assassino? Shona viene descritta da tutti come una ragazza dirigente e prudente. Non avrebbe mai fatto entrare in casa uno sconosciuto. Dispera fino alla fine che la figlia ce la faccia. Ma purtroppo i medici ben presto ne dichiarano il decesso. Pare che Shona sia negata. Il giorno dopo però arriva il referto dell'autopsia che rivela nuove informazioni. Shona è stata trovata nella vasca da bagno completamente vestita. E a quanto pare non presenta traumi da violenza intima. Dal referto dell'autopsia non risulta sia annegata. Le corde vocali sono danneggiate, ha dei lividi sul collo, a indicare che anche lei è stata strangolata. Lo strangolamento è un metodo che viene definito dagli esperti intimo. In quanto l'assassino ti guarda negli occhi. Ti può mostrare la sua rabbia, il suo odio, tutte le sue emozioni. È libero di guardarti negli occhi mentre ti toglie la vita. Intanto in ogni caso i detective si tacciano la casa in cerca di indizi. Raccolgono impronte latenti, capelli e campione di DNA. Ma ahimè non trovano tracce dell'assassino. Quello che trovano solo solo parecchie tracce ripulite. Questo significa che il colpevole ha ripulito tutta la scena del crimine. Ha rimesso tutto in ordine per far sembrare che non fosse accaduto nulla. Non sembra abbia agito distinto. È perfettamente conscio di ciò che fa. Il caso di Shona è impresso nella mente del detective Gary McFadden. Il quale non può fare a meno di chiedersi se ci sia un collegamento con quello di Brandy. Ma il grado le differenze. Entrambe le donne sono state strangolate in casa. Ma nel caso di Brandy la scena del crimine era caotica. Forse c'era stata una lotta e per di più c'era anche un bambino di mezzo. Questo risulta un omicidio disorganizzato. Shona invece era stata strangolata nella vasca da bagno. Un delitto pulito. Esattamente l'opposto di quello precedente. Ci sono quindi due scene del crimine diverse. Ma gli assassini sono diversi e sono gli stessi. Per quanto riguarda il caso di Shona, i primi sospetti ricadono sul suo fidanzato, Darren. Che l'ha ritrovata nella vasca. Darren è il primo sospettato per molti motivi. C'erano diversi problemi tra lui e Shona ma la sua avversione dei fatti non combacia affatto con l'avversione dei fatti dei parenti della ragazza. Poi c'è il metodo scelto. Lo strangolamento. Un modo di colpire che è più frequente nelle liti domestiche oppure tra persone coinvolte sentimentalmente. Darren è un dato di fatto. Poteva entrare indisturbato in casa di Shona. Insomma, un fidanzato non ha certo bisogno di forzare la porta. Inoltre non piaceva la famiglia di Shona. Aveva mentito sui problemi di coppia che aveva con la sua ragazza e per di più, d'un tratto, è sparito nel nulla. Le autorità in pratica avevano tra le mani l'indiziato perfetto. Il detective Gary McFadden voleva trovarlo proprio per chiarire le cose, per metterlo alle strette. Era il colpevole? Aveva mentito? Era soltanto confuso? Dopo giorni passati a cercarlo, Darren in effetti si è fatto vivo e ha parlato con Gary McFadden. E nonostante appaia come il sospettato perfetto, non c'è nulla che lo leghi all'omicidio di Shona. I detective però sono sicuri di una cosa, hanno un punto fermo. Shona doveva per forza conoscere il suo assassino. La domanda qui a questo punto quindi è, quali sono le persone che la vittima avrebbe fatto entrare in casa sua senza problemi? La polizia studia ogni individuo che risponde a questo requisito, ma ahimè non ne emergono indiziati. Poi a due mesi dall'inizio delle indagini avviene una svolta, perché una guardia privata trova l'auto di Shona nel parcheggio del college che frequentava. L'auto è piena di polvere. Questo vuol dire che Shona era andata a lezione? Aveva guidato lei la macchina? Oppure era stato l'assassino? I detective ispezionano immediatamente l'auto per cercare di capire chi l'abbia guidata fino a lì. In quel caso ciò che colpisce il detective è una cosa, il sedile della macchina. In quanto è totalmente tirato indietro. Shona era alta un metro e sessanta, quindi avrebbe dovuto tenere il sedile molto più avanti per arrivare ai pedali della macchina. In quel caso invece quel sedile era tutto indietro. Questo vuol dire che l'assassino sicuramente è più alto di un metro e sessanta. Questa in effetti è un'informazione utile. I detective ormai sono convinti che sia stato l'assassino a portare la macchina fino al campus. Quindi la esaminano a fondo in cerca di indizi. Ma anche l'auto risulta ripulita accuratamente. Specchietto, le maniglie, ogni superficie di quell'auto è stata ripulita. Il colpevole quindi si è impegnato per non lasciare neanche mezza impronta su quell'auto. Al che io mi chiedo, ma al posto di star lì a ripulire ogni volta tutto, perché non usare dei guanti? Non è più semplice? Boh. In ogni caso l'idea che Shona conoscesse il colpevole è corroborata da un altro elemento. La polizia del campus comunica ai detective che l'auto di Shona non è in un parcheggio qualunque. Ma è nel posto in cui di solito parcheggiava Shona. L'assassino quindi la conosceva così bene da portare la sua auto nello stesso punto in cui la lasciava lei ogni santo giorno. La polizia capisce di avere a che fare con un soggetto calcolatore, molto abile nel coprire le sue tracce. Insomma, è un assassino a sangue freddo. Malgrado il ritrovamento dell'auto, questo caso purtroppo si arena. Però c'è da dire che la polizia ignora un dettaglio cruciale. Non lo sa ancora, ma l'anno prima è scomparsa un'amica di Shona, una donna di nome Carolyn Love. I detective prima scoprono il crimine, poi il collegamento. Carolyn e Shona si conoscevano, erano amiche perché per un periodo hanno lavorato insieme, proprio da Taco Bell. Torniamo all'estate del 1992, più precisamente siamo al 15 giugno del 1992. E la 21enne, Carolyn Love, scompare nel nulla. Carolyn nel periodo della scomparsa lavorava da boiango, una catena di fast food specializzata in pollo fritto. I detective ovviamente avevano indagato anche su questo caso, si erano recati per la prima volta a casa sua, senza trovare nulla di rilevante. Poi era emerso che forse la donna aveva scelto di allontanarsi per un po', senza dire niente a nessuno. Insomma, era possibile che se ne fosse andata magari in qualche albergo di lusso per qualche giorno? Col fine di trovare una risposta a questo quesito, i detective di nuovo tornano a casa di Carolyn, per capire per l'appunto se questa pista poteva essere valida. Carolyn voleva sparire? Se voleva sparire per un po', avrebbe preso dei vestiti, delle valigie. Invece, in quella casa, a quanto pare, non manca proprio nulla. Le settimane diventano mesi e la polizia non trova alcun nesto tra la scomparsa di Carolyn e l'omicidio di Shona, avvenuto otto mesi dopo. Ma non è finita qui perché in questa lista si aggiunge un'altra vittima, Sharon Nance. Pensate che il detective Gary McFadden la conosceva. La donna faceva la prostituta. Torniamo quindi indietro fino al 28 maggio del 1992, quando il corpo della 33enne Sharon Nance veniva ritrovato nella zona ovest della città, appena fuori dall'area urbana. Era tra le serpaglie vicino alla ferrovia ed era chiaro fin da subito che il corpo della donna era stato scaricato lì, ma il delitto era avvenuto altrove. Il cran di Sharon era fratturato in più punti, il naso aveva subito molti traumi e inoltre erano presenti su tutto il suo corpo diverse contusioni. Questo è stato chiaramente un atto dettato dalla rabbia o dalla furia cieca. Ma cos'era successo davvero a Sharon? All'epoca Sharon viveva con sua zia, era spesso in strada, è vero, ma in quel caso aveva detto a sua zia che usciva con degli amici. Dice addirittura a sua zia che non avrebbe fatto tardi, che sarebbe rincasata in tempo per cena. Da quel giorno Sharon non era più tornata a casa, era sparita senza lasciare le traccia. Anche questo caso si palesa ai detective come molto molto complicato. Sulla scena non c'erano testimoni, non c'è alcun'arma del delitto. Insomma, le prove scarseggiano. Ma nell'estate del 1992, proprio poco dopo l'omicidio di Sharon, le autorità avevano iniziato a indagare più a fondo sul crescente numero di donne scomparse. La paura e la preoccupazione si facevano sempre più sentire, perché il numero di donne nere sparite o assassinate continuava ad aumentare. A questo punto il dipartimento aveva scelto di istituire una task force per indagare sulla scomparsa di tutte quelle donne. Hanno usato quindi le risorse di varie agenzie, i profiler dell'FBI. Ciò che cercavano le autorità erano semplicemente dei collegamenti. Le vittime si conoscevano? Dove erano state viste per l'ultima volta? Lavoravano in posti simili? Nulla sembrava accomunarle. Malgrado l'aiuto dell'FBI e di altre agenzie, gli investigatori non riescono a rintracciare nessuna donna. Neanche Caroline Love, che, ahimè, resta una persona scomparsa. A questo punto facciamo un balzo in avanti di circa un anno. E arriviamo al 25 giugno del 1993. Quando viene trovata un'altra donna afroamericana senza vita. E la causa della sua morte è tristemente familiare. Strangolamento. La vittima è Audrey Spain. Viene ritrovata in casa sua, in camera sua, nel letto, sotto le coperte, con attorno al collo due legature. Una fatta con un reggiseno, l'altra fatta con un asciugamano. Anche in questo caso non è presente alcun segno di affrazione. Quindi, anche in questo caso, il colpevole deve essere qualcuno che la vittima ha fatto entrare in casa. Arriva il 15 settembre del 1993 e Michelle Stinson, una studentessa universitaria in difficoltà, e madre single di due figli piccoli, viene ritrovata senza vita, in casa, da un amico. È stesa in cucina in posizione supina. È vestita e si nota all'altezza del collo il segno di una legatura. Si nota proprio un solco profondo, fatto con ferocia. Probabilmente quel solco è stato causato da una cintura. Michelle, peraltro, è anche stata accoltellata più volte. E anche in questo caso, la casa di Michelle non presenta segni di affrazione. I detektivi ovviamente interrogano i suoi conoscenti, senza trovare né indiziati, né un muovente. Tutte le autopsie eseguite su queste donne non mostrano segni di violenza intima. Campioni di sangue e di DNA vengono raccolti e mandati al laboratorio. Ma, visto l'alto tasso di crimini presenti a Charlotte, ci vorrà un po' per ottenere risultati. Intanto la polizia non si è resa conto di una cosa davvero, davvero essenziale. La casa di Audrey Spain dista un chilometro da quella di Caroline Love e cinque chilometri da quella di Michelle Stinson. Queste sono tutte case che si trovano nella zona est di Charlotte. Alla fine del 1993, i detective hanno a che fare con Shona Hawke, Audrey Spain, Michelle Stinson e Caroline Love. Le prime tre sono donne già trovate senza vita, strangolate. L'ultima resta ancora scomparsa nel nulla. Fino a questo momento, i detective reputano tutti questi casi separati tra di loro. Arriva il 20 febbraio del 1994, quando i detective scoprono un altro corpo di un'altra donna afroamericana. Anche lei si trova in casa sua, si chiama Vanessa Mack, è una studentessa di 25 anni, madre di due figlie. Il suo corpo viene ritrovato in casa, in camera, sul letto, da sua madre, ossia Barbara Rippey. Vanessa è la quarta vittima di strangolamento nel giro di 12 mesi. La polizia raggiunge la scena del crimine in pochi minuti. La vittima, come vi ho già detto, è stesa sul letto, supina, con un legaccio al collo. In realtà, quella al collo di Vanessa è una doppia legatura, le esce sangue dal naso. E la detective McFadden sembra molto simile al caso di Brandy Anderson. L'aggressione ai danni di Vanessa è la peggiore e la scena del crimine è rivelatrice. I detective a questo punto provano a rimettere insieme i pezzi. Notano le doppie legature attorno al collo delle vittime. Non sono incrociate. Significa che ogni legatura ha una funzione precisa. È in questa circostanza che i detective notano queste doppie legature ricorrenti e sospettano che tutti quei crimini siano opera della stessa persona. Sospettano. Attenzione. Questo per ora è solo un sospetto. I detective notano anche che aggressione dopo aggressione il colpevole in caso sia lo stesso è migliorato molto per quanto riguarda la doppia legatura. Ma è anche diventato più incauto. Lascia più tracce, fruga tra le cose in casa, non metti in ordine. E non ripulisce la scena del crimine. Come al solito non vi sono né segni di scasso né di collutazione. Questo significa che la vittima anche in questo caso doveva conoscere il suo aggressore. Sul letto i detective è noto in una borsa. È vuota. Il suo contenuto è rovesciato sul letto. Il dubbio che l'omicidio sia stato a scopo di rapina a questo punto li sfiora. I detective quindi cercano il portafoglio di Vanessa. Trovano delle carte di credito e degli assegni quindi contattano gli istituti di credito per scoprire se sono state fatte operazioni bancarie e per cercare collegamenti tra eventuali indiziati e sportelli ATM banche o ancora agenzie di cambio. È così che gli investigatori scoprono che in effetti una carta di credito di Vanessa è stata utilizzata per un prelievo nelle vicinanze. Quindi richiedono il video dello sportello ATM relativo alla data del prelievo. In base ad orari e numero di carta il detective ottiene dei discreti fermo immagine dal video. Dopo mesi a brancolare nel buio ecco che salta fuori un sospettato. L'immagine non è assolutamente chiara il viso non si nota bene ma è un maschio nero e porta un orecchino d'oro pendente a forma di croce. Gli investigatori e me hanno solo un'immagine parziale del suo volto che non è sufficiente per un'identificazione. In seguito indagando sempre sull'omicidio di Brandy Anderson i detective iniziano a guardare questi delitti da una prospettiva decisamente diversa. L'istinto dice detective che c'è ancora un indizio essenziale che non sono riusciti a trovare capace proprio di collegare tutti quei delitti. Analizzando i casi di Shona Hawk avvenuto il 19 febbraio del 1993 fino al caso di Brandy Anderson avvenuto l'8 marzo del 1994 i detective notano un crescendo di violenza nelle aggressioni. Inoltre anche le scene del crimine mutano. Nei primi casi come in quello di Shona Hawk i detective pensano ad un assassino preciso e metodico ma nel caso di Brandy Anderson le autorità trovano una scena del crimine davvero molto molto disordinata. Le autorità a questo punto ipotizzano che il colpevole sia una persona con problemi di dipendenze un pazzo sicuramente si tratta di una persona disperata e pericolosa molto pericolosa però c'è un problema perché a questo punto gli agenti si ritrovano di nuovo ad un punto morto quindi decidono di rianalizzare nuovamente tutti gli indizi che hanno raccolto fino ad ora avevano parlato con tutti i parenti delle vittime per stilare una lista di persone che ciascuna delle vittime avrebbe fatto entrare in casa senza problemi ma da quelle liste non era emerso neanche un nome in comune quindi il collegamento c'è ma non si vede o almeno i detective non lo notano minimamente frustrati continuano a studiare la linea temporale del caso di Brandy Anderson avvenuto nel 1994 nella speranza di trovare qualcosa che finora gli è sfuggito scoprono così che la sera del suo omicidio Brandy ha parlato a telefono con suo cugino un certo George stava cercando di convincerlo per andarla a trovare nel weekend in modo da uscire insieme e far festa poi George aveva sentito dal telefono il campanello di casa di Brandy suonare Brandy gli aveva detto di aspettare in linea poi era tornata al telefono dicendo al cugino che c'era qualcuno che doveva chiamare urgentemente Lamar il suo compagno Brandy prima di mettere Joe aveva chiesto ma quindi non vieni George aveva risposto che era stanco quindi Brandy lo aveva salutato augurandogli una buona giornata intanto gli investigatori convocano Lamar il compagno di Brandy dopo il ritrovamento del suo corpo è il 10 marzo del 1994 è palese che Lamar sia sconvolto ha trovato la sua compagna senza vita e il suo bambino con una legatura al collo l'uomo reagisce come ci si aspetta in questi casi e in preda a un enorme dolore i detective quindi chiedono a Lamar ascolta ti viene in mente qualcuno che Brandy avrebbe fatto entrare in casa senza problemi? a questa domanda Lamar risponde sicuro Elijah Rule George Barrell Ed Harry Wolans i detective sanno che se a George ci hanno parlato è il cugino di Brandy però gli altri due uomini non li conoscono insomma quando qualcuno fa dei nomi bisogna indagare su quale persone è necessario risalire agli spostamenti agli orari ai loro alibi i detective così consultano i database locali e nazionali per capire se qualcuno di questi tre uomini ha dei precedenti nel passato di Elijah in quello di George non c'è niente di rilevante poi c'è Harry che ha un precedente per un piccolo furto insomma sembra non ci sia nulla di eclatante nel passato di questi uomini intanto il detective Stasbury chiede se per caso ci sono novità e l'unica novità che hanno i detective della squadra omicidi è quel nome ossia Harry Wallans che a quanto pari era stato denunciato per taccheggio ed era un uomo che Brandy Anderson avrebbe fatto entrare in casa il detective a questo punto chiede di esaminare il fascicolo guarda la fotografia di Harry è nato un dettaglio l'orecchino quell'uomo porta un orecchino con un pendente a forma di croce e un uomo con quello stesso orecchino aveva prelevato con una carta di credito di Vanessa Mack il detective riprende il fermo immagine di quell'uomo davanti allo sportello ATM con lo stesso orecchino a forma di croce benché il viso non sia identificabile nel fermo immagine del video della banca l'orecchino si vede chiaramente e pare sia identico a questo punto i detective pensano di essere sulla strada giusta devono trovare Harry Wallans così il detective chiama a raccolta tutti gli altri otto detective dell'omicidi e li porta nella sala conferenze spiega loro cosa ha scoperto mostra loro le foto e nel giro di mezz'ora dall'inizio della riunione dalla ricetrasmittente esce una voce che richiede l'attenzione di tutti i detective della squadra c'è stato un altro omicidio peraltro nello stesso complesso residenziale in cui era stata uccisa Brandy ormai i detective ne sono sicuri c'è in giro un serial il seggente Rick Sanders diramo un avviso raccomanda agli abitanti di Charlotte di non fare entrare in casa nessuno conoscenti inclusi e di non restare mai da soli per quanto possibile le autorità sono convinte di avere a che fare con un assassino che conosce le sue vittime i detective dell'omicidi quindi acquisiscono tutte le informazioni necessarie su Harry Wallans uno degli uomini indicati dalla mar però i detective di Harry Wallans sono solo che era amico di Brandy Anderson che aveva precedenti per taccheggio e che portava un orecchino simile all'indiziato ancora ignoto dell'omicidio di Vanessa Mack gli investigatori non sono sicuri di essere sulla strada giusta ma poi scoprono che Harry Wallans ha abitato in vari posti nella zona est della città non lontano dal complesso residenziale Lake Apartments e in quel complesso residenziale ci vivevano sia Brandy Anderson che Betty Baucom il suo attuale domicilio è ignoto inoltre i detective scoprono ben presto che ha problemi di dipendenza e in effetti alcune scene del crimine erano compatibili con una ricerca spasmodica di soldi proprio per acquistare la sostanza i detective capiscono che devono concentrarsi su Harry Wallans perché potrebbe essere l'uomo che cercano potrebbe essere lui il colpevole nel frattempo c'è una svolta nel caso di Betty Baucom i detective cercano il suo veicolo in quanto credono che l'assassino l'abbia usato per fuggire una delle vicine di Betty parla proprio della sua auto indica un parcheggio e dice quello è il posto dove Betty parcheggiava sempre la sua auto ma ora la sua auto non c'è così gli investigatori diramano un mandato di ricerca per il veicolo in quanto rubato e potenzialmente collegato all'omicidio il 10 marzo nel primo pomeriggio viene reso noto che i detective stanno cercando la macchina di Betty Baucom ossia una pulsar grigia improvvisamente il 911 riceve una chiamata da un cittadino che dice di aver visto un'auto del genere parcheggiata proprio di fronte ai lake apartments e questo sì che è assurdo perché due vittime abitavano in quel complesso e di conseguenza quel posto è pieno di detective quando detective Gary McFadden se ne rende conto inizia a pensare che il colpevole stia giocando con loro o meglio si stia prendendo il gioco di loro la polizia delimita l'area e sequestra l'auto di Betty Baucom anche se nessuno si dude di poter trovare granché in quanto a indizi perché anche l'anno prima gli investigatori hanno ritrovato un'auto ma era praticamente tutta quanta ripulita non c'era mezza impronta digitale né all'interno né all'esterno dell'auto sulla carrozzeria ma per l'auto di Betty Baucom il risultato sarà lo stesso gli agenti cercano impronte sul volante sul cambio sul vanno portaoggetti sulle maniglie ma non trovano alcun riscontro il colpevole di nuovo ha cancellato le sue tracce così le autorità passano alla carrozzeria della macchina partono dagli specchietti ma non trovano nulla così continuano verso il retro della macchina dove si apre il bagagliaio ed è proprio lì che i detective rivelano l'impronta di un palmo chi apparteneva a quell'impronta? ebbene sì proprio a lui Harry Wallans arriviamo all'11 marzo del 1994 la polizia di Charlotte dà la caccia a Harry Wallans che ora è il principale sospitato per l'omicidio di Brandy Anderson Betty Baucom e forse con alta probabilità anche per l'omicidio di altre donne a questo punto gli investigatori hanno l'impronta del palmo hanno la fotografia dell'ATM del caso di Vanessa Mack sanno quindi che il colpevole porta un orecchino con un pendente a forma di croce finalmente le autorità trovano delle analogie tra i vari casi però non trovano alcun collegamento tra Harry Wallans e tutti gli omicidi avvenuti nei mesi precedenti e mi sto riferendo a Sharon Nance Carolyn Love Shona Hawk Audrey Spain Michelle Stinson la domanda è Harry Wallans conosceva tutte le donne uccise? aveva un legame con loro? è necessario indagare temendo la fuga di Harry la polizia non rivela il suo nome in media ma con un serial a piede libero la città è nel panico il departimento della polizia di Charlotte è sotto pressione in affanno i detective sanno che devono risolvere il caso e alla svelta perché di solito gli assassini di questo genere non si fermano fino a quando non vengono catturati la polizia continua a cercare Harry nella zona est della città dove sono state trovate senza vita Betty Baucom e Brandy Anderson ma proprio non riescono a rintracciarlo quindi chiamano nuovamente in centrale Lemar il fidanzato di Brandy che a quanto pare conosce Henry Wallans gli investigatori chiedono alla Mar semplicemente di parlare di Henry ed è così che la Mar inizia per l'appunto a parlare di Henry dice diverse cose poi però dice qualcosa che attira l'attenzione dei detective Harry ha rotto da poco con una ragazza una certa Sadie così la polizia rintraccia anche Sadie e la convoca in centrale i detective vogliono sapere chi sia il suo ex ragazzo se aveva altre donne stando alla descrizione di Sadie Henry con lei è sempre stato un ragazzo gentile premuroso dolce proprio quel tipo di persona che chiunque avrebbe fatto entrare in casa senza alcun tipo di problema Sadie sapendo della sua dipendenza ha provato anche ad aiutarlo in tal senso quindi ha provato a farlo smettere senza risultato però ecco perché i due si sono lasciati Sadie in centrale e guarda le foto di tutte quelle vittime quando inizia a sospettare che il suo ex possa essere il serial della città perde totalmente la testa è senza parole è scioccata perché anche lei conosce la maggior parte delle vittime ma non le aveva collegate tra di loro peraltro Sadie non ha idea di dove si trovi Harry può solo fornire detective qualche vecchio indirizzo che non li porta a niente le autorità hanno una certezza e Harry il colpevole sanno a chi dare la caccia malgrado l'imponente caccia all'uomo Harry non si trova e il 12 marzo del 1994 c'è un'altra vittima guardando la scena del crimine e la vittima Debra Slaughter una donna di 35 anni gli investigatori capiscono che il colpevole è sempre lo stesso Harry Wallans come al solito la donna viene ritrovata nel suo appartamento che dista due chilometri e mezzo dal complesso residenziale Lake Apartments dove sono state trovate Brandy Anderson e Betty Baucom la polizia continua a inseguire ogni possibile pista senza risultati poi una soffiata anonima li conduce in un appartamento verso la zona est della città il 12 marzo alle 5.25 del pomeriggio i detective trovano Henry Wallans e a poche centinaia di metri dalla casa di Debra Slaughter la sua ultima vittima Henry Wallans quindi viene portato in centrale per un interrogatorio ma la polizia non sa ancora che tipo di criminale sia in questo momento sanno che Henry Wallans è sicuramente indiziato per due omicidi quello di Betty Baucom e quello di Brandy Anderson i detective sanno che è coinvolto senza dubbio ma fino a che punto è coinvolto e soprattutto in cos'altro è coinvolto Henry viene portato in una stanza per gli interrogatori e sembra incredibilmente calmo quasi spavaldo strafottente ha l'aria stanca e un odore non troppo piacevole il detective immagino che non si lave da giorni perché era troppo occupato a nascondersi il profilo che lo descrive meglio secondo gli esperti è quello dello psicopatico in quanto gli psicopatici non provano alcun tipo di rimorso quindi fare leva sull'empatia non funziona e infatti con Henry questa tattica non ha alcun esito positivo le prove che hanno in mano le autorità non sono sufficienti per incriminarlo quindi devono trovare un modo per farlo parlare alle 18.43 alle 18.43 inizia un pressante interrogatorio che mira a scalfire la corazza di Henry Wallans l'intenzione di detective è quanto meno di fargli ammettere di conoscere una vittima di aver avuto almeno un contatto con lei questo per le autorità sarebbe già un enorme passo avanti domanda dopo domanda i detective riescono a far ammettere ad Henry di conoscere Lamar il fidanzato di Brandy Anderson Henry conoscendo Lamar deve per forza anche conoscere Brandy quindi il discorso deve essere portato verso il suo rapporto con lei si conoscevano? Brandy si fidava di Henry Henry racconta che Brandy era una ragazza molto dolce con una ragazza molto onesta e aperta gli investigatori a questo punto dicono ad Henry ascolta avrai saputo della sua morte Henry risponde beh sì mi pare l'abbia trovata il 10 marzo giusto? i detective insistono e chiedono ad Henry sai com'è andata? Henry risponde beh so che hanno strangolato lei e tentato di far fuori anche il bambino a questo punto i detective si guardano è sicuro Henry non solo conosce Brandy ma sa anche in che circostanze è venuta a mancare così passano a Betty Baucom considerando che la donna è stata trovata senza vita l'8 marzo del 1994 anche in questo caso Henry è tranquillo ammette di conoscere la donna dice che lavorava da Taco Bell esattamente come Brandy Anderson ecco come l'ha conosciuta Henry infatti per un periodo ha lavorato in parecchie ristoranti ma è sempre stato licenziato e alla fine è stato assunto proprio da Taco Bell gli investigatori a questo punto chiedono ad Henry beh e sa cosa sia successo a Betty vero? Henry anche in questo caso fa spallucce e dice sì sì certo il detective a questo punto gli fanno una domanda trabocchetto ossia gli chiedono ma se la conoscevi non è che per caso qualche volta gli hai dato un passaggio con la sua macchina? Henry di nuovo risponde sicuro sì sì è capitato mi ricordo che guidava una pulsar i detective quindi capiscono che Henry conosceva anche la seconda vittima i detective ora puntano le attenzioni verso le altre vittime ed è a questo punto che Henry Wallace fa alcuni passi falsi il primo riguarda Deborah Slaughter l'ultima vittima il cui nome non è ancora stato divulgato in pratica nessuno sa ancora della sua morte i detective quindi la menzionano ed Henry continua a rispondere con estrema sicurezza e dicendo sì sì la conosco la frequentavo vi dirò sono stato a casa sua di recente mi ha offerto una birra siamo stati lì un'oretta a parlare dei vecchi tempi e altre sciocchezze il fatto che Henry ammetta di conoscere Deborah è una svolta cruciale a questo punto i detective spostano l'attenzione sulla prova tangibile più importante che hanno in loro possesso ossia l'impronta del palmo della mano di Henry Wallace sulla macchina di Betty Baucom Henry fino a quel momento è tranquillissimo risponde alle domande senza problemi ma soprattutto è convinto di aver pulito perfettamente quell'auto e invece i detective gli sbattono sotto il naso quella prova che a conti fatti è davvero importante le autorità dicono Henry questa è l'impronta del palmo della tua mano sappi che abbiamo rilevato la stessa impronta nell'auto di Betty Henry risponde con sicurezza no non ci sono mie impronti in quell'auto i detective a questo punto si correggono e rispondono oh Henry hai ragione scusa non l'abbiamo trovata nell'auto ma sull'auto era sulla carrozzeria Henry a questo punto è messo a restrette quindi smette di parlare l'investigatore Tony Rice sta indagando sulla scomparsa di Carolyn Love quindi entra nella stanza dell'interrogatorio e cambia tattica Tony guarda Henry Henry guarda Tony ad un certo punto Henry si lascia andare e dice ho fatto proprio un bel casino Tony guarda Henry e gli chiede sei cristiano? Henry risponde ma così mi piace pensare il detective quindi guarda Henry e gli dice ok allora preghiamo insieme gli stringe le mani e inizia a recitare davvero una preghiera o almeno così sembra il detective recita padre celeste grazie per questo giorno ci aspettano momenti molto duri quindi ti chiediamo di guidarci nel parlare di questa grave gravissima questione Henry si rende conto che quella non è proprio una preghiera ma un modo per farlo confessare così stacca la mano da quella del detective e dice no no non posso parlarne datemi un foglio Henry su quel foglio inizia a scrivere dei nomi tanti troppi nomi si legge Carolyn Love Shona Hawk Audrey Spain Valencia Jumper Lichelle Stinson Betty Bocom Brandy Vanessa Mack e Deborah Slaughter così il detective Tony Reese esce dalla sala interrogatori con quel foglio su cui c'è scritta una lista di nomi poi dice a Rick Sanders il sergente ecco questi nomi li ha scritti Henry e sta anche per fare una dichiarazione Henry nella sua dichiarazione dice semplicemente si sono stato io ho ucciso quelle donne i detective davanti a quel foglio restano inorriditi perché non sono riusciti a collegare Henry a tutti quei casi mancavano ovunque segni di effrazione perché Henry conosceva tutte le sue vittime dalla prima all'ultima eccolo l'anello mancante ecco quell'indizio che mancava la polizia per collegare tutto Henry come conosceva Shona ebbene Shona ha lavorato con lui da sacco bella l'uomo ha incontrato diverse delle sue vittime in diversi fast food della zona uno dei nomi che Henry ha scritto su quel foglio peraltro risulta nuovo ai detective quindi vanno da Henry e gli chiedono ma chi è questa Valencia Jumper Henry risponde con una freddezza assurda dicendo Valencia Jumper è la ragazza che è morta nell'incendio in effetti i resti della povera Valencia sono stati scoperti il 10 agosto del 1993 circa due mesi dopo l'omicidio di Audrey Spain e un mese prima di quello di Michelle Stinson la sua morte è stata classificata come accidentale ma ora emerge che è stato proprio Henry Wallans ad appiccare l'incendio per coprire uno dei suoi tanti omicidi nelle 10 ore successive Henry Wallans spiega alle autorità la sua tattica bussare alla porta delle ragazze fingere di passare di lì per caso con una scusa a farsi invitare ad entrare per poi ucciderle i detective però vogliono sapere di più quindi chiedono ad Henry se può illustrare loro le modalità dell'omicidio di Brandy Anderson Henry racconta ho bussato alla porta Brandy ha chiesto chi è? ed io sono Henry Brandy mi è venuta ad aprire stava parlando con qualcuno al telefono io sono andata in bagno ho afferrato un asciugamano l'ho piegato due volte glielo ho messo al collo e poi l'ho strangolata Henry descrive con minuziosità tutti gli omicidi delle 9 donne le confessioni sono tutte estremamente dettagliate Henry è uno psicopatico che inganna il prossimo fingendosi una persona buona tra le 9 vittime c'è anche Caroline Love da cui scomparsa è stata denunciata dallo stesso Henry con la sua fidanzata Sadie come vi ho detto Henry conosceva tutte le vittime oltre agli omicidi Henry ha ammesso di aver fatto violenza su tutte le vittime prima di farle fuori cosa che ha occultato in un modo alquanto minuzioso è vero Henry faceva violenza sulle ragazze o le donne che colpiva ma poi le rivestiva per tutti questi casi comunque la polizia fortunatamente ha fatto dei test ma non sono stati processati a causa dell'intasamento dei laboratori i risultati alla fine mostrano tracce di DNA compatibile con quello di Henry Wallans su 5 vittime quando l'identità del primo serial di Charlotte viene resa nota sono in molti a stupirsi di questo lato suo oscuro e segreto tutti coloro che lo conoscono dagli amici ai parenti lo descrivono come un bravo ragazzo un ragazzo molto dolce affabile sono tutti quanti sconvolti incredule sono anche le famiglie delle vittime alcune delle quali hanno ricevuto conforto da lui perché Henry andava a tutti i dannati funerali il 13 marzo Henry viene arrestato e 19 ore dopo l'arresto l'uomo conduce i detective ai resti di Caroline Love li conduce verso una zona boscosa dice di ricordarsi di un albero e di un fosso e in effetti è proprio in quella zona che i detective trovano i resti di Caroline Love oltre i nove nomi già elencati Henry ammette di aver colpito altre due donne Sharon Nance la sua prima vittima nel North Carolina uccisa nel 1992 e Tashandra Betea colpita l'8 marzo del 1990 nella sua città natale a Barnwell nella Carolina del Sud quella è la prima delle sue 11 vittime presto lo shock dei cittadini si trasforma e diventa rabbia nei confronti della polizia che ha impiegato anni per catturare Henry la comunità e i media iniziano a puntare il dito contro le autorità in tribunale chiaramente emerge la storia di Henry Wallans nasce a Barnwell nella Carolina del Sud il 4 novembre del 1965 viene cresciuto da sua madre Lottie Wallans e non conosce mai suo padre l'uomo era un insegnante che ha abbandonato Lottie appena scoperto della gravidanza la madre di Henry lavora per lunghe ore come operaia tessile è una donna molto severa esige disciplina da suo figlio e lo rimprovera anche per i più piccoli errori Henry e sua madre abita in una casa che non ha né impianti idraulici interni né elettricità dal processo peraltro è anche emerso che sua madre era solito avvestirlo apposta da bambina per poi farlo sfilare per tutto il quartiere in modo da essere deriso da tutti nonostante tutti questi problemi Henry comunque si dimostra un ottimo studente si laurea nel 1983 e si trasferisce nello stato di Washington col fine di unirsi alla marina degli Stati Uniti viene congedato con onore nel 1987 però alla fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90 Henry inizia a commettere diversi crimini inclusa la rapina nel 1990 ecco che arriva la sua prima vittima Tashonda Betea arriviamo quindi al 1997 quando Henry viene giudicato colpevole di 9 capi d'accusa per omicidio volontario e 8 per violenza intima è condannato alla pena capitale attualmente Henry continua ad essere nel braccio della morte nella prigione di Relig nella Carolina del Nord detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso lo conoscevate? in caso fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti noi ci vediamo prestissimo al prossimo video vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ciao ciao